Roba calda ragazzi, ecco mi ricordo un po' il comunismo ragazzi quando c'erano quelle parate con le foto dei dittatori no? Pugliamo i fedeli mascherati ovviamente Ecco anche il pupazzo, l'eroe diciamo, non è cambiato niente ragazzi, in comunismo si portavano le foto dei dittatori E qui nel mondo libero si portano questa roba qua Tu sei benedetto a fare donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ah il Papa ragazzi, the pup, bene è stato bellissimo, cioè chi mi vede adesso a me ragazzi? Cioè sto così, non lo so, è solo mezzogiorno adesso quindi chissà cosa vedremo più tardi Non è sicuro Mettete i ballerini come il cisco, vai, vai! Mariano, devi andare a ballare, non c'è il giro, no? Non c'è il giro, non c'è il giro, non c'è il giro. Verifica, si fa, non è il giro. Notica, non c'è il giro, non c'è il giro. Sì, non c'è il giro. Siamo arrivati la stafana, facciamo un tratto di finale, vai! Allora, vedete, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vira Stefano, vira! Stefano è la regione del bambino di polgorografico, ma che... ...diamo facendo. Adesso nemmeno se il basso in serio, così. Vai, dà che voi. Le mani, vai, Santo Stefano tutti con le mani, vai. Ripartiamo alla grande, 2022, Santo Stefano di Santa Maria, vai. Era una grande festa, ci voleva lui, fu il campione del mondo, Matteo Tondola! e si tira e si fa con i canoni e si tira e si tira ci abbiamo dei ballerini e dei posti e si tira